Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi la dottoressa Miriam Gandolfi, psicologa e psicoterapeuta, responsabile scientifica di Officina del Pensiero di Bolzano e Trento e docente presso la Scuola di Psicoterapia Est, l'Istituto Europeo Terapia Sistemica Relazionale di Milano. Dottoressa Gandolfi, in un colloquio precedente a questo nostro incontro, accennava il fatto che molti suoi colleghi pongono scarsa attenzione al rapporto tra la cornice epistemologica di riferimento e gli interventi tecnico-operativi messi in atto. Quali considerazioni stanno alla base di questa sua affermazione e puoi indicarci come, secondo lei, dovrebbe comportarsi e agire lo psicologo? Allora, come antipasto è un po' impegnativo. Vediamo se riusciamo a renderlo così digeribile. È comunque intinta con questa location incredibile, veramente molto bella. Allora, vediamo se riesco a spiegare questo concetto che però è fondamentale. Dalla notte dei tempi, l'uomo, l'essere umano, cerca di dare una spiegazione ai fenomeni nei quali si imbatte. Questa, naturalmente, è una capacità della mente. Ce l'hanno tutti gli esseri viventi, dalle api al vostro cane, se ce l'avete. Cioè, la capacità di dare significato agli eventi e farsi un'ipotesi di come le cose siano collegate in modo da prevedere e decidere come comportarsi. Naturalmente, in questo, gli esseri umani sono, direi, anche un po' barocchi, no? Nel senso che sono inventati anche molte spiegazioni. Allora, questo che cosa collega? Quindi, cercando di conoscere il mondo, come è collegato al concetto di epistemologia? Mi limito a quella che consideriamo la conoscenza occidentale. Si può pensare che le mele cadono perché non possiamo togliere dagli alberi, perché Dio ce l'ha vietato. Cioè, la religione è un modo di spiegare come ci rapportiamo con il mondo. Possiamo pensare che le mele cadono, come diceva Aristotele, perché hanno la qualità intrinseca del cadere. Quello che noi a volte consideriamo il carattere intrinseco delle persone, quindi abbiamo ancora delle tracce. E questa è stata la filosofia che, non solo in passato, ma tuttora, cerca di dare, appunto, delle spiegazioni a come avvengono i fenomeni e come si muove il mondo e l'uomo. E poi, non so, anche l'astrologia è un modo per avere un modo di collegare, di capire e di fare conoscenza. A un certo punto abbiamo Galileo e Newton e scoprono che le mele cadono per tutt'altro motivi, va bene? Allora, perché faccio riferimento a questo? Perché è lì che nasce quello che noi consideriamo il pensiero scientifico. Il pensiero scientifico si dota di alcuni presupposti teorici che diventano poi la griglia con cui ogni disciplina che aspira ad avere l'etichetta di scientifico deve fare i conti, quindi anche la psicologia. Allora, il punto è quali sono queste pietre fondative a cui ogni disciplina deve, su cui deve confrontarsi e sapere che quelli sono i parametri per non sconfinare in altre letture della realtà, come ho indicato prima. Allora, prima di tutto il concetto di causa-effetto. Diciamo che la fisica è diventato un po' il prototipo, appunto, di quello che dovrebbe essere un pensiero scientifico. Quindi, ad una causa deve corrispondere un effetto e si presume che se conosciamo la causa saremo in grado di prevenire l'effetto. Allora, questo vuol dire, non so, in psicologia, l'idea che se io individuo un trauma, se un bambino avrà avuto un danno lesionale, avrà degli effetti che noi cerchiamo di prevedere in modo da poterli poi gestire in maniera corretta. Un altro concetto fondamentale, appunto, dell'epistemologia scientifica classica, così come la chiamiamo, è il concetto di tempo. La fisica usa il termine la freccia del tempo, quindi un'idea di tempo lineare, perché il prima e il dopo collega in maniera pertinente la causa e l'effetto. La psicologia, per esempio, ha preso da qui il concetto di tappe evolutive e della linearità delle tappe evolutive. Un'altra cosa importantissima è quella della neutralità dell'osservatore. Lo scienziato è colui che osserva un fenomeno cercando di non intervenire, perché altrimenti non può cogliere il dato oggettivo della realtà. Il famoso divano di Freud è l'effetto del rispetto di questo concetto. Oppure, per esempio, nei test, qualunque tipo di test, noi sappiamo che prevede, deve dare determinate indicazioni a colui che lo applica in maniera da non inquinare ciò che va ad osservare. Quindi, questo è poi, altra cosa importante, la scelta di un linguaggio in qualche maniera universale e non ambiguo, ed ecco perché l'uso dei numeri e della matematica come strumento di espressione dei risultati. Naturalmente, perché ci sia un procedimento scientifico, non solo ci vuole fedeltà a questi criteri, ma il tema anche della verifica dell'eventuale falsificabilità di una teoria, che deve avere tutti questi parametri, e sulla base dei risultati che ho potrò capire se la mia teoria di spiegazione di un fenomeno, del perché cadono le mele, o del perché un bambino si comporta in una certa maniera, è corretta o non è corretta. Allora, io insisto sempre molto quando faccio formazione, non la faccio soltanto in EIST, la faccio in corsi per, non solo per psicologi, ma io lavoro moltissimo con figure professionali cosiddette non cliniche, che però hanno un ruolo importantissimo. Io devo avere chiaro nella testa qual è il mio modo di interpretare la realtà e di rispetto di alcuni criteri, per poi decidere che significato do a quel fenomeno e che strumento utilizzo. Ecco, qui però interviene, perché io pongo molta attenzione a questo aspetto della consapevolezza e della scelta della cornice epistemologica, perché a partire dal Novecento la scienza classica si è modificata, si è evoluta e ha dovuto modificarsi. E noi sappiamo che tanto la teoria della relatività di Einstein quanto la quantistica non andavano molto d'accordo, tutt'ora stanno litigando, ma adesso questo è un altro argomento, ma tutti e due hanno messo in evidenza una cosa fondamentale anche per la nostra disciplina. Il punto di vista dell'osservatore, anzi di più, l'atto osservativo stesso altera ciò che vado ad osservare. Quindi, se ci pensiamo, il problema della diagnosi, che nel nostro campo è un aspetto fondamentale per decidere sia la comprensione del fenomeno sottostante a un comportamento, diciamo, problematico, inatteso, quello che vogliamo definirlo, sia poi i mezzi che mettiamo in campo, dipendono dalla chiarezza e dalla consapevolezza di questa connessione. Ed è una connessione gerarchica. La cornice epistemologica mi contiene le teorie, le teorie mi aiutano a capire il fenomeno, da lì decido l'intervento, faccio la verifica e devo verificare se il mio processo è corretto. Spero che sia stato chiaro, perché non è così semplice. Grazie a tutti. Grazie a tutti.